salve a tutti i gentili spettatori di come don chisciotte benvenuti a questa dodicesima puntata dei i conti non tornano il programma di approfondimento macroeconomico che è nato grazie alla collaborazione tra il nostro portale come don chisciotte punto org l'associazione mmt italia e l'associazione la genesi che ringraziamo per la messa in onda su lombardia tv io sono massimo antonino cascone capo redattore di come don chisciotte e insieme a me ad accompagnarmi in questa avventura c'è l'amica sonia milone ciao sonia buongiorno ciao massimo saluto a tutti i nostri spettatori oggi è con noi giuseppe nasone referente mmt italia ciao giuseppe ciao sonia ciao massimo saluto anche a giulio in regia e uno speciale a chi ci sta seguendo ciao giuseppe è un piacere ritrovarti oggi abbiamo deciso di dedicare la puntata interamente all'euro per scavare a fondo nelle caratteristiche di questa moneta allora partiamo subito con la prima domanda che ci aiuta subito a focalizzare eh l'attenzione l'euro è una moneta buona o cattiva? Beh eh massimo questa valutazione lasciamola a chi ci sta ci sta seguendo chi ci sta guardando noi oggi ci facciamo una chiacchierata e il mio ruolo fondamentalmente sarà quello di fornire informazioni dati numeri nazioni e dare allo spettatore elementi per farsi un'idea autonomamente elementi in aggiunta a quello che già si sa su questa moneta e sul suo ruolo si sa che l'euro è la moneta unica espressione del mercato unico europeo mercato formato da quegli stati compresa l'italia che si sono uniti abbattendo barriere confini e hanno creato quello che oggi è la terza era economica del mondo l'idea era ed è se mettiamo insieme risorse capacità competenze di centinaia di milioni di europei andiamo a creare un'economia con vantaggi e opportunità enorme e l'euro moneta unica di riferimento internazionale è il supporto ideale per fare funzionare meglio tutto con quello che ne consegue se ricordate romano brodi una volta addirittura disse con l'euro lavoreremo un giorno in meno e guadagneremo come se lavorassimo un giorno in più e aggiungo una cosa pare che nel 1996 quando si stava pensando di non entrare subito dall'inizio nell'euro il prodi che era presidente del consiglio tornando da un viaggio istituzionale in spagna disse assolutamente no gli spagnoli hanno detto che vogliono entrare subito anche loro noi saremmo l'ultimo e l'unico grande paese mediterraneo a restare fuori insomma questo primo treno per l'euro costi perché costi va preso il senso era quello avvantaggiandosi su chi sarebbe arrivato dopo quindi è chiaro come l'euro fosse visto come una grande e imperdibile opportunità si Giuseppe infatti fu presentato proprio così e ti dirò di più che ancora oggi quando qualcuno dice che avremmo dovuto restare da soli con la lira si risponde che non era sostenibile che era indispensabile unire le forze unire la moneta perché il mondo oramai era cambiato era diventato un mondo globalizzato e oggi ancor di più perché è un mondo interconnesso c'è il gigante commerciale della cina e così via ora secondo te è vero che restando da soli con la lira saremmo stati destinati a soccobbere in questo mondo nuovo e Sonia sai mi viene in mente la favola del re nudo è presente tutti la conosciamo questa favola e poi pensa non tanto al bambino che a un certo punto dice divertito è nudo quanto tutti gli altri che vedono la stessa cosa questo tizio che sfila nudo come un verme ma si autoconvincono che nudo non è e se la raccontano l'uno con l'altro rafforzando questo autoconvincimento che nessuno voleva passare per stolto finché il bambino con la sua frase semplice spezza l'incantesimo naturalmente per chi vuole sottrarsi a questo incantesimo ora è una favola che ci ricorda di essere sinceri con noi stessi e di ragionare su quello che vediamo e non su quello che ci vogliamo convincere che sia il ventesimo rischio che tutti corriamo ora l'idea che senza l'euro e la ue saremmo stati spazzati via dal cosiddetto nuovo mondo mondo nuovo è un'ipotesi francamente ridicola che si scontra con la realtà se così fosse allora il pianeta terra oggi sarebbe un tutto uno scenario di morte e desolazione un deserto in cui sopravvivono solo tre aree gli stati uniti di america l'eurozone la cina per dire ma allora come avranno mai fatto fino adesso senza unirsi con qualcuno il canada o l'australia o la turchia o il perù per dire il giappone eh sì l'isoletta giapponese e tutti quegli stati che non si sono uniti con altri pare che dalla nuova zealanda aggiungano ancora segni di presenza di vita umana ora ironia a parte unirsi non unirsi sono modalità con cui si decide di affrontare il mondo scelte alternative non obbligatorie con conseguenze anche diverse secondo le direzioni presa insomma anche da soli si vive lo stesso poi noi siamo stati anche la quinta potenza industriale del mondo quattro stati prima di noi e tutto il resto del mondo dopo anche stati con un miliardo di persone ma infatti giuseppe concordo con te nel senso che si che si venga a dire che la quinta potenza mondiale perché come giustamente dicevi questo eravamo prima dell'entrata dell'euro non avrebbe saputo mantenere un suo equilibrio con il resto del mondo ovviamente è un po assurdo se non fazioso potremmo dire poi è chiaro non ci si unisce in in quelle gabbie come quella europea che siamo qui a commentare ma questo non vuol dire che non si dialoga non si fanno accordi non si fanno intese questo è sempre esistito e sempre esisterà giuseppe però io ci tengo a fare l'avvocato del diavolo anche per stuzzicare poi le tue risposte perché credo bisogna comunque guardare la realtà dei fatti come adesso cioè la globalizzazione è una realtà ormai ovviamente così come le grandi potenze economiche come la cina sono sono una realtà e quindi magari con la lira potremmo avere anche delle difficoltà a gestire queste nuove situazioni in cui ci dovremmo affacciare allora entrare nell'euro è stata una scelta sbagliata tu pure caro massimo se avessi una macchina del tempo potrei tornare indietro convincere in qualche modo il governo dell'epoca a restare con la lira vedere che sarebbe successo poi tornare qui a riferire alla macchina in tempo non ce l'ho ma dico io perché complicarsi per forza la vita allora da 21 anni noi siamo conviventi stretti con l'euro giusto secondo noi stiamo meglio o peggio se stiamo meglio vuol dire che la scelta fatta non era sbagliata se però stiamo peggio allora è il caso di farsi due domande darsi due risposte la lira per quasi 150 anni ha condiviso le nostre sorti è stata coautrice delle nostre fortune non la percepivamo assolutamente come una palla al piede ci faceva stare bene per quanto bene stavamo e aggiungo assolutamente non la usavamo al meglio poi c'è stato detto che era imminente la fine di tutto l'apocalisse che ci saremmo salvati soltanto facendo il salto nell'euro presentato come un cavallo vincente la soluzione dei nostri problemi un cavallo su queste risposte a puntare tutto tutto quanto le aspettative erano alte come si diceva prima lavorare di meno guadagnare di più praticamente quasi un paese di balotti chiarissimo giuseppe però faccio l'avvocato del diavolo ora io se scoprissimo di stare peggio rispetto a quando avevamo la lira chi ci dice che è proprio a causa dell'euro e non ad esempio di una nostra incapacità o di condizioni oggettivamente sfavorevoli perché dare sempre la colpa alla moneta unica quando le cose vanno male ma sonia io sono d'accordo con te e bene a non avere nessuna impostazione a prioristica sia nell'includere ma anche nell'escludere la la causa monetaria ora quindi penso che non voglio eludere con questo la tua domanda anzi penso che una risposta a questa domanda uscirà da quello che sarà detto durante tutta questa trasmissione quindi ti chiedo solo di esercitare la virtù della pazienza e comporre il mosaico man mano che i tasselli arrivano e subito un primo tassello va bene attenzione attenzione a sottovalutare la moneta in generale e attenzione a concepire la moneta euro una moneta e basta non è così non è così e in esso c'è molto più di quanto si vede per comprenderlo bene va ricordato che l'euro è parte integrante di un progetto e chiedo a giulio di mandare la prima diapositiva l'euro nasce nel 1992 con il trattato europeo di maastricht di cui parleremo a breve con questo trattato si va a comporre il secondo dei due pilastri il mercato unico e appunto la moneta unica su cui poggia l'intero progetto europeo progetto oggi più che centenario quindi non dobbiamo pensare che l'euro nasce nel 92 come un fungo la mattina dopo la pioggia della notte prima progetti di moneta unica erano già presenti da decenni pensiamo per esempio a un progetto abbozzato nel 1942 in germania per il dopoguerra con il patrocinio dell'allora ministro degli affari economici walter fu chiaro sì giuseppe stai dicendo che l'euro la moneta che usiamo alla quale siamo legati da più di vent'anni è un progetto nazista stai dicendo questo non è quello che sto dicendo attenzione quello che voglio dire che l'euro può essere ben compreso solo se si tiene presente che a esso si giunge dopo una lunghissima gestazione decenni di elaborazione dottrinale e che in esso si rispecchia una corrente di pensiero una visione dell'economia della moneta e ancora più a monte della società e del mondo tutto questo confluisce nell'euro e lo plasma per farlo di venire così come si presentano ufficialmente a partire dal 92 allora un esempio tra i vari per chiarire bene questo concetto e chiedo la seconda diapositiva giulio uno degli economisti della prima fase che contribuì a definire i contenuti in questa gestazione fu un francese jacques hueff è interessante conoscere il pensiero allora hueff parla di falsi diritti che cosa sono sono quelli che noi chiamiamo i diritti e perché per lui sono falsi qui c'è la sua visione della democrazia secondo hueff e non era il solo a pensarlo la democrazia parlamentare come noi la conosciamo è un aborto della storia è un inganno i popoli sono incapaci di autogovernarsi responsabilmente quando dal popolo si rilevano delle voci non sono espressioni di legittime esigenze sono capricci di bambini iniziati e poi ci sono i politici collusi con l'elettorato che danno spazio a questi capricci e li tutelano facendoli divenire diritti ecco perché falsi diritti ora secondo la coef ci provoca frastorni nell'economia perché lo stato a causa dei politici spendaccioni spende troppo e male dice genera inflazione esposta ricchezze e risorse dai produttivi capaci e meritevoli agli improduttivi titolari dei falsi diritti chiaro chiaro come la pensavano chiarissimo ma permettimi è ovvio che ognuno ha diritto ad avere la propria opinione ma secondo me questa opinione è veramente delirante nel senso pensare ai diritti che sono delle conquiste sociali e di civiltà in questo modo mi fa riflettere mi fa riflettere anche abbastanza nel senso che eh da quello che ci stai raccontando anche prendendo appunto spunto dalle dichiarazioni di questa persona eh l'euro si forma su una corrente di pensiero che è contraria alla democrazia e ai diritti quindi possiamo dire che è uno strumento che è stato strutturato per operare in un contesto antidemocratico se non addirittura per aiutare l'eliminazione della democrazia è un'osservazione molto acuta la tua lascio a te agli spettatori il compito di tirare personalmente le somme e io intanto aggiungo contenuti quindi come la si voglia pensare sta di fatto che vediamo la prossima di positiva grazie di lui eh la dottrina dei falsi diritti di OEF diverrà pietra angolare nella strutturazione della futura moneta unica che presenterà due caratterizzazioni uno la banca centrale ora ricordate l'altra puntata come l'avevamo definita la fabbrica dei soldi a disposizione dello Stato la puntata sulla moneta solare ora a disposizione dello Stato la banca centrale non può mai mai creare moneta per finanziare le spese degli stati membri dell'unione monetaria seconda caratterizzazione lo Stato al meglio delle cose può fare pareggio di bilancio cioè spendere e riprendere e recuperare tutto con i tributi tutto quello che ha speso lasciandoci quindi come all'inizio e neanche quello se in passato ha speso troppo deve recuperare l'eccesso e ancora prendere ancora più di quanto spende un'ultima notazione poi nella diapositiva successiva sul valore della moneta ora l'altra volta abbiamo visto che la moneta non è una merce bensì un'attestazione di debito ricordate un documento non è una merce per OEF invece la moneta è una merce è una merce speciale ma sempre merce è e come per ogni merce più è rara più è scarsa più è preziosa più ha valore secondo OEF una vera moneta una moneta di valore doveva essere scarsa addirittura più dell'oro. Giuseppe una domanda ma al di là dell'aspetto diciamo teorico tutto quello che dici si riflette anche nelle politiche degli stati quindi è certo che sì già da anni prima di maastricht questa ideologia preme sulle classi politiche e fin dai primi anni 80 si diffonde massivamente l'idea secondo cui il debito pubblico fosse un problema la spesa dello stato dovesse essere messo a freno insomma tutta una serie di condizionamenti sulla pubblica opinione che pur incontrando all'epoca certe resistenze rallentamenti nella vecchia classe politica italiana già preparano il terreno ai futuri cambiamenti di rotta nelle decisioni di spese dello stato andiamo ora con la prossima diapositiva al trattato di maastricht e alla nascita dell'euro ora da questo trattato negli anni a seguire arriveranno eh istituto monetario europeo poi la banca centrale europea il sistema europeo di banca centrale insomma tutti quei soggetti istituzionali che popolano e operano nell'euro mondo nel trattato sono fissati i requisiti finanziari che gli stati dovranno possedere fin dal loro ingresso nell'eurozona perché secondo le convinzioni economiche del progetto europeo sono quelle caratteristiche indice di stati quadrati ed economie nazionali solide e quindi adatti e meritevoli a essere beneficiati dall'uso di quella moneta senza andare nel dettaglio eh tasso di interesse basso, inflazione bassa, rapporti debito pubblico PIL e deficit pubblico PIL bassi tutti i parametri che negli anni a venire i successivi trattati accordi e quant'altro hanno confermato in asprito rafforzato pensiamo al pareggio di bilancio messo in costituzione l'articolo ottantuno chi non ha ancora questi requisiti dovrà aspettare di averli per poter fare domanda di ammissione essere esaminato e se idoneo autorizzato ad abbandonare la moneta nazionale acquisire quella unione. Chiaro? Come no, come no, anzi grazie mille per la per la chiarezza però a questo punto direi di fare anche una comparazione perché noi abbiamo visto nel corso della storia dell'Unione Europea che comunque non tutti gli stati hanno adottato l'euro anche facendo parte del dell'Unione e chiaramente l'esempio principale è rappresentato dalla Gran Bretagna che era nell'Unione perché ricordiamo poi con la Brexit è uscita era nell'Unione ma aveva la sua moneta, la sterlina. Allora mi chiedo aveva mantenuto la sterlina perché non aveva i requisiti per entrare nell'euro oppure comunque li aveva? Allora l'euro è la moneta dell'Unione Europea. Gli stati membri dell'Unione prima o poi devono finire con l'adottarla. Però il Regno Unito aveva concordato un'eccezione sarebbe stato nell'UE senza l'euro con la sterlina. Poi è uscito appunto e finisce là. Tuttavia interessante capire come mai non avesse accettato quella moneta. Tra un po' ci arriviamo. Intanto, e non è scollegato da quello, andiamo a vedere come nel sistema euro uno Stato si procura i soldi per fare le sue spese. Ora di norma uno Stato che deve fare una spesa attingerà i suoi conti correnti, giusto? Quindi dovrà avere soldi nel conto. E' come se li procura questi soldi nel conto? O li prende dalla banca centrale direttamente in qualche modo. O fa debito pubblico, cioè vende titoli di Stato per 100 soldi e la banca centrale li mette nel conto 100 soldi corrispondenti a quanto ottenuto dalla vendita dei titoli. Approssimando il concetto diciamo quindi due vie. D'accordo? Ora aiutiamoci con questa immagine che chiedo ai giudici di mandare e mettiamo a confronto un sistema monetario attuale a moneta sovrana con il sistema euro. Va bene? Allora guardiamo l'immagine di sinistra. Lo Stato è in cima alla piramide, la banca centrale lo serve, i soldi che spende vanno alle banche private, alle famiglie, alziene, insomma, vanno al settore privato. Ripeto, due vie per avere i soldi con cui fare quelle spese. Bene, nell'euro la via della banca centrale è vietata. L'abbiamo visto l'altra volta. Il finanziamento diretto della BCE agli Stati è vietato per trattato e per statuto della stessa BCE. Chiusi il discorso. La via che resta è allora quella del prestito dai privati, come uno qualsiasi di noi. Vedete che infatti nell'euro figura di destra, in cima alla piramide è la BCE, che i soldi li dà alle banche che li prestano allo Stato. E lo Stato è caduto dall'Olimpo, è scivolato in basso in mezzo ai comuni mortali. Infatti Giuseppe, nella puntata precedente in cui sei stato con noi e ti avevi parlato della moneta sovrana, avevi spiegato che la banca centrale è un portafoglio infinito in mano allo Stato, che non ha problemi a trovare i soldi per le sue spese o per ripagare i prestiti. Però con l'euro la banca centrale non è più in mano allo Stato. Quindi lo Stato non ha più a disposizione risorse finanziarie. Quindi finisce che si mette in mano i privati, giusto? Non ne deve avere. L'abbiamo infatti sottointeso prima parlando dell'ideologia che sta dietro all'euro. Poi Sonia, il trattato ha fissato i rigorosi requisiti dello Stato affidabile. I privati quindi controlleranno se uno Stato con l'euro si sta muovendo all'interno di questi paletti. Se per esempio vede che la sua economia non va così bene da garantire adeguate entrate fiscali, e lì cominciano i problemi. Lasciamo stare l'ipotesi estrema del fallimento dello Stato, che può essere solo teorica. Ma se i privati vogliono più interessi, vuoi per ripagarsi del maggiore rischio sostenuto non prestare soldi a quello Stato, vuoi semplicemente per speculare, il costo del debito aumenta, il carico fiscale sulla gente può aumentare, più tasse sottraggono più risorse e peggio va l'economia. Insomma, la grande finanza privata ha così il coltello dalla parte del maggiore. E lo Stato deve muoversi con prudenza, paradossalmente, ancora di più quando la sua economia va male e dovrebbe avere a disposizione tutti i mezzi e le risorse per intervenire. Chiaro? Ecco, questo qua credo sia un punto fondamentale, proprio per capire la differenza tra il sistema che c'era prima in cui lo Stato, come ci hai fatto vedere, era sopra la piramide e invece il sistema attuale, perché da quello che ci stai dicendo, in base a quelle che sono le regole dell'Europa e della BCE, lo Stato è frenato nella sua azione di sostegno all'economia in generale, ma a maggior ragione quando poi siamo di fronte a una crisi e quindi ci dovrebbe essere, anzi, bisogno di maggior sostegno. Sì, sì Massimo. Proprio in quei momenti lo Stato si trova a spendere di più, per esempio, per disoccupazione, cassa integrazione e a dover azionare freni in ogni dove, perché deve rispettare i paletti di bilancio imposti dall'appartenenza all'Eurozona e non può rischiare. Proprio in quei momenti in cui il suo aiuto è determinante per far uscire un paese dal pantano. E torniamo adesso al Regno Unito, di cui abbiamo accennato prima, tra le varie motivazioni del suo no all'Euro, e chiedo a Giulio di mandare la prossima immagine, ne campeggia una in prima fila per la nostra attenzione. Allora, guardiamo queste immagini e leggiamo insieme quanto un consulente del tesoro britannico Wayne Godley, che fu estremo oppositore all'ingresso del Regno Unito nella moneta unica, ebbe a dichiarare quando l'Euro, che sarà varato nel 1999, esisteva ancora solo sulla carta del Trattato di Maastricht. Leggiamo allora. Le nazioni dell'Euro non solo rinunceranno alla propria moneta sovrana, ma anche alla loro capacità di spesa. Con l'unione monetaria i governi non potranno più essere finanziati dalla Banca Centrale e dovranno prendere in prestito sui mercati aperti. Questo rischia di essere troppo costoso per loro, persino impossibile. Le restrizioni di budget a cui queste nazioni si sottopongono infliggeranno una depressione economica all'Europa che essa non potrà risolvere. Caspita che parole. Praticamente ci ha detto che siamo autocondannati a soffrire in perpetuo. Quindi è molto importante che lo Stato possa avere le mani libere per aiutare a risollevare l'economia quando ci troviamo in difficoltà. Però mi pare di aver capito che con l'Euro è impossibile, giusto? Lo Stato con l'Euro deve fare molte acrobazie per aiutare e comunque difficilmente quanto servirebbe. Se servono 10 soldi darà quello che può magari 6-7 e gli anni dopo probabilmente andrà a recuperare aumentando le tasse. Sono i parametri di bilancio di Maastricht che dettano legge e dicono fondamentalmente che lo Stato non può spendere senza recuperare indietro e come nel caso dell'Italia che aveva un debito pubblico più importante di altri deve spendere ancora meno e recuperare ancora di più perché ha obiettivi di deficit e di debito rigidi e duri da rispettare. Mi rifaccio a quanto si diceva prima sulle pressioni e condizionamenti delle idee dell'isteria da debito da deficit fin dagli anni 80. Ora come visto nel 92 arriva Maastricht e da lì ci si prepara al nuovo avvento. già da allora cambiando comportamenti, cambiando decisioni di spesa, uniformandosi sempre più intimamente con quelli dei già presenti da un decennio. Guardiamo un grafico e mette Giulio lo passa a noi, lo spieghiamo. Chi non è avversario grafici non si spaventa in una cosa molto semplice. Allora pensiamo allo Stato che spende e ci dà soldi, istruzione, sanità, difesa, ambiente, territorio, sussidi, cultura, assistenza, previdenza, moneta che entra nelle tasche di cittadini che la spendono e circola e fa economia. Ora pensiamo allo Stato che riscuote i tributi. Noi paghiamo questa volta e il flusso è inverso rispetto a prima, cioè sono soldi che ci togliamo per barli allo Stato. E ora veniamo a questo grafico che rappresenta le risultanze o il saldo di una parte del bilancio pubblico italiano, il bilancio primario, che a noi cittadini interessa molto. Perché? Perché è quella parte dove sono contenute spesa pubblica a beneficio dell'economia reale, cioè famiglie e imprese che producono merci e servizi e tributi. qui non c'è la finanza. Chiaro? Ti interrompo velocemente, sì, perché stiamo parlando come precisazione per i nostri ospiti dei soldi che lo Stato dà e prende dai cittadini, da noi cittadini, quindi non prodotti finanziari o diciamo altre cose che magari poi tu ci spiegherai. Perfetto Massimo, sì, infatti. Qua non ci sono messi i pagamenti di prodotti finanziari, interessi sul debito pubblico, qua è solo il risultato dal 1980 a oggi del dare e avere anno dopo anno che noi, che facciamo l'economia reale e non la finanza, abbiamo con lo Stato. Allora, per farla semplice, vedete a mezza altezza che c'è il livello dello zero. Lo vedete, no? Sarebbe il pareggio di bilancio, quello è il livello del pareggio di bilancio, saldo zero. Bene, se la linea azzurra si trova sopra a quel livello, significa che in quel periodo lo Stato fa deficit, cioè lo Stato al netto sta dando soldi a famiglie e imprese, ci sta arricchendo, perché dà più di quello che si riprende indietro. Al contrario, se si trova sotto quel livello dello zero e sur plus, lo Stato ci toglie soldi, ci impolisce. È chiaro? Qui si vedono gli effetti di quelle idee e delle nuove regole. Vedete, fino al 1991 lo Stato ogni anno ci dava soldi. Dal 1992, anno di Maastricht, in poi, ogni anno, tranne due eccezioni praticamente neutre e il finale del Covid, ci ha tolto soldi dal 1992 a oggi. È chiaro? Praticamente ci sta togliendo soldi ogni anno da 30 anni a questa parte. Praticamente sì. E come detto nella prima puntata di questa serie, la Regioneria Generale dello Stato ha calcolato un ammontare complessivo di 846 miliardi. Ma io francamente mi chiedo come hanno fatto le famiglie in tutti questi anni, come hanno fatto i commercianti, come hanno fatto gli imprenditori, se non dando fondo a tutti i loro risparmi. Sicuramente i risparmi accumulati negli anni 70-80 avranno aiutato, però non sono infiniti, a un certo punto terminano. E comunque, nel periodo 1996-2022, la propensione al risparmio delle famiglie consumatrici si è ridotta dal 19,6%, scusate, ho letto male, dal 19% all'8% del reddito. E quest'anno è ancora in calo. Vi faccio ora vedere al volo un altro dato, prego Giulio. un grafico sulla spesa media mensile delle famiglie italiane, va bene, dal 1980 al 2022. Come vedete, per due decenni i consumi crescono, vedete la linea sale? Dall'euro in poi non crescono più, anzi, a un certo punto regrediscono. Oggi siamo fermi ai livelli di spesa di 30 anni fa. Incredibile, incredibile. Giuseppe, una domanda che secondo me è importante, perché noi comunque con questa trasmissione stiamo smontando pezzo dopo pezzo le regole su cui si fonda l'euro e ovviamente l'Unione Europea. Però è anche importante, diciamo, guardare dall'altra prospettiva. Nel senso, nell'euro, come è prevista la crescita economica di uno Stato nel momento in cui lo Stato non ha il possesso della moneta e quindi non può intervenire? Cioè, quando hanno pensato ad introdurre questa moneta? Hanno pensato a una strategia per la crescita degli Stati oppure soltanto una regressione economica? Il problema dello Stato che è costretto a non aiutare come dovrebbe si vede molto, soprattutto nelle fasi di crisi economica che perdura negli anni, come se non avessimo la forza che serve a risollevarci. La strategia nell'euro sarebbe che lo Stato non aiuta monetariamente più di tanto ed è dall'estero che dobbiamo risucchiare i soldi che ci servono. Ma ti riferisci alle esportazioni in questo caso, quindi? Anche. Diciamo che i soldi che entrano per ciò che diamo all'estero devono essere superiori, devono essere di più, dei soldi che escono per quello che l'estero ci dà. Insomma, dobbiamo vendere di più e comprare di meno. La qualcosa presenta vari problemi. Intanto il grosso di quello che si vende e si compra è con i paesi vicini che per noi sono gli stati membri dell'Unione, quindi ci stiamo mangiando tra di noi. Ma poi, in generale, l'estero decide lui se compra da noi o da altri che per qualche motivo preferisce a noi. Non solo. Nei periodi di recessione internazionale tutto rallenta e si ferma. Riepilogando, nell'euro la crescita deve essere trainata dall'estero e non dallo Stato. Così funziona. E l'estero non è sempre disposto ad arricchirci. C'è una cosa che vi devo dire. Seguitemi bene, mi raccomando. Facciamo un esempio. In caso di squilibrio commerciale, con l'estero, a noi sfavorevole. Come può uno Stato agire per aiutare a ribilanciare? Cioè, cosa può fare per attirare dall'estero quei soldi che ci mancano? Le opzioni, in teoria, sono varie. Ma nell'euro sono tutte o imperdette o non possibili. Caso di cambio, tappi di interesse, eccetera, eccetera. Tranne l'unica via disponibile. L'unica. Comprimere la domanda interna. Ma che vuol dire? Comprimere la domanda interna vuol dire fare in modo da ridurre la richiesta di beni e servizi della popolazione, da parte della popolazione, e così le importazioni diminuiscono. Quindi diminuiscono le uscite di soldi. E i nostri venditori, che non vendono come prima in Italia, si rivolgono oltre confine, aumentano le esportazioni, quindi i soldi in entrata dall'estero. Ora, sapete come si fa a comprimere la domanda interna? Come si fa, secondo voi, a convincere famiglie e imprese italiane a comprare di meno? Non li si convince. Li si lascia con meno soldi. E gli acquisti diminuiscono. In un'intervista televisiva alla CNN nel 2013, l'allora presidente del Consiglio, Mario Monti, dichiarò in risposta a una domanda del giornalista, quanto vi vado a leggere. Stiamo effettivamente distruggendo la domanda interna attraverso il consolidamento fiscale, cioè praticamente attraverso l'austerità, la cosiddetta austerità. Incredibile, veramente, incredibile. Io sono ogni volta di più sconvolta, anche perché ce lo dicono in faccia, praticamente. Monti non è un fesso, è un economista, sapeva benissimo che nell'euro quello poteva fare e basta. Quindi, finanziari e lacrime e sangue, tagli a pensioni, a spese varie, magari anche riforme del mercato del lavoro che favoriscano la riduzione dei salari e degli stipendi. Ricordo che per essere competitivi con l'estero, le imprese esportatrici, per contenere il prezzo di vendita, devono ridurre il più possibile i costi di produzione. di norma, il costo principale è quello dei lavoratori. I lavoratori e le loro famiglie sono l'ultimo anello della catena, quello più debito. Vi mostro ora un altro grafico, grazie Giulio. Un grafico che si commenta da solo, sono i lavori a tempo determinato, a tempo parziale, in percentuale sul totale dei lavori dipendenti. Quindi, diciamo, i lavori non stabili, non solidi, un po' precari. Le due linee, la linea rossa per i lavori a tempo parziale, la linea azzurra per il tempo determinato, guardate come rispetto agli anni 90, entrambi i lavori meno stabili crescono in percentuale. Il mondo del lavoro che diventa più flessibile è il mondo dei lavoratori che diventa più incerto sul presente e sul futuro. Un grafico molto, molto esplicativo. Quindi, Giuseppe, abbiamo capito che lo Stato deve fare il deficit, altrimenti ci impoverisce. Come facciamo però a convincere le persone che tenere i conti in ordine, cioè evitare che lo Stato sperpe i soldi per i suoi cittadini, non è una cosa giusta? Allora, sì, Sonia. Quello che mi dici, c'è la domanda che mi giri, in effetti è una domanda molto diffusa. Si parla di conti che dovrebbero rappresentare lo Stato che fa bene, che non sperpera, che spende il giusto, non fa sprechi. No, si fa riferimento a quegli scandal, che so. Lo Stato che deve mettere una tendina al vagone del treno e spende 200 euro per ogni tendina. Ora, cerchiamo un attimo di fare chiarezza sul punto. A parte che mi verrebbe da dire che il vero spreco sono i 9 milioni di lavoratori in Italia che non sono messi in condizione di esprimere il loro potenziale produttivo di ricchezza e benessere per tutti noi, ma non voglio fare polemica. Oggi, con le normative vigenti, sprechi, queste cose del genere, dell'esempio del treno, per intenderci, è veramente difficile che accadano ancora. La tendina verrebbe acquistata attraverso una gara d'asta in regime di libero mercato, in cui quello del prezzo più basso è criterio di aggiudicazione generale. Proprio come vuole l'Unione Europea. Chiaro? Allora, Sonia, noi abbiamo fatto tante cose che l'UE ci ha detto di fare. Ma non cambia. Riforme del codice degli appalti pubblici, riforme del lavoro, delle pensioni, riforme di qua, riforme di là, tagli alla spesa, ottimizzazioni, efficientamenti, i conti. Non basta mai. Dovremmo arrivare fino all'ultimo capello acquistato per un millesimo di millesimo di euro in più di quanto si poteva? Per capire che la via non è questa. Quello che ci interessa è stare bene. Stare bene. Nel video che chiede a Giulio di mandare in onda, un economista francese, il professor Alain Parquet, un autentico insider, un infiltrato di certi ambienti e salotti di potere, in un intervento a Rimini anni fa, riportò un colloquio riservato avuto con un responsabile del Ministero delle Finanze francese. Ascoltiamo le parole del professore, tradotte in italiano in tempo reale dalla traduttrice. Comincerò la mia presentazione vera e propria con una citazione. citazione del responsabile del Ministero delle Finanze francese. Fra l'altro appartiene all'Ordine dei Benedettini, è un monaco, ed è anche il capo dell'Opus Dei francese. Ho parlato con lui di questa questione e mi ha detto sì, l'economia francese è morta, ma non è abbastanza. Mi ha detto, professore, lei deve capire perché esiste il sistema europeo. Che cosa vogliamo? Vogliamo distruggere per sempre la gente. Vogliamo creare una nuova tipologia di europeo, una nuova popolazione europea disponibile ad accettare la sofferenza, la povertà, una popolazione disposta ad accettare salari inferiori a quelli cinesi. L'idea riportata dal professor Parghè sulla popolazione europea rappresenta un concetto più volte espresso in questi anni, magari con parole diverse, ma siamo là. Per esempio, l'ex ministro Padoa Schioppa ebbe a dichiarare, leggo, nell'Europa continentale un programma completo di riforme strutturali deve oggi spaziare nei campi delle pensioni, della sanità, del mercato del lavoro, della scuola e in altri ancora. Ma deve essere guidato da un unico principio, attenuare quel diaframma di protezioni che nel corso del ventesimo secolo hanno progressivamente allontanato l'individuo dal contatto diretto con la durezza del vivere, con i rovesci della fortuna, con la sanzione o il premio ai suoi difetti o qualità. Chiaro? La durezza del vivere. Ora pensiamo a Pietro Mennea. Va bene? Uno che la durezza del vivere la conosceva, per diventare il Mennea che sappiamo si è portato al limite della resistenza umana e l'ha spostato in avanti. Ma se avesse corso le sue gare con la testa ficcata in una busta di plastica senza poter respirare, avrebbe corso per come poteva? Pensiamo anche a Carla Fracci, un'altra che è la durezza del vivere. Una volta in un'intervista le fu chiesto come si fa a diventare Carla Fracci e le rispose semplicemente allenarsi per otto ore al giorno tutti i giorni per vent'anni. Ma se fosse salita sul palco con due cavigliere di cinque chilino e avrebbe potuto danzare il Lago dei Cigni con la leggerezza e la grazia sublimi che saperebbe esprimere. Guardiamo ora questo grafico grazie Giulio. Povertà in Italia in aumento anno dopo anno oggi cinque milioni di famiglie povere. La durezza del vivere. Infine quest'altro grafico grazie Giulio tasso di crescita paesi del mondo è un grafico tratto dai dati già mostrati dal nostro presidente Filippo Abbate nella prima puntata di questa serie. Si commenta da solo i paesi dell'Eurozona il quadratino piccolino a destra è il più piccolo e crescono meno degli altri. Perché? Cause internazionali non possono essere perché colpirebbero tutti gli stati e non alcuni. Allora deve essere qualcosa in comune solo a quegli stati e che cosa? A me ne viene in mente una sola e secondo me oggi ne abbiamo parlato un po'. Dopo tante domande fatte a me e vi ringrazio permettetemi di farne una io a voi e agli spettatori cosa dire allora? Il re è nudo. E beh direi proprio di sì che dici Sonia? Assolutamente sì molto nudo e lo spettacolo non ci piace. Assolutamente. Bene bene siamo arrivati alla fine di questa splendida puntata Giuseppe ti ringrazio delle tue spiegazioni e del tuo intervento qui oggi. Grazie a voi. Allora prima di salutarvi vi ricordo che tutte le puntate sono visibili ovviamente su Lombardia TV ma anche indifferita sui canali YouTube e Rumble di Come Don Quixote e sul sito di MMT Italia. Inoltre se avete dei dubbi o delle domande sui argomenti che stiamo trattando l'ultima puntata di questa serie la puntata 15 sarà dedicata appunto ai dubbi dei nostri spettatori alle risposte fornite dagli esperti di economia della MMT quindi potete scrivere una mail a mmtitalia chiocciola mmtitalia punto info Un saluto a tutti i nostri spettatori ci vediamo sabato prossimo alle due e mezza ciao a tutti i nostri spettatori a tutti i nostri spettatori